I poliziotti della squadra mobile di Agrigento, dopo un'indagine durata un anno e mezzo tra le province di Agrigento, Caltanissette e Catania, hanno individuato e indagato 40 persone, di cui 26 arrestate per i reati di associazione per delinquere finalizzate al traffico di stupefacenti e in materia di armi. L'attività investigativa è stata condotta nell'Interland catanese e in particolare nell'agglomerato abitativo popolare tradizionalmente noto come Bronx. Le investigazioni si sono sviluppate nei confronti di uno degli indagati che nell'ottobre del 2020, a distanza di soli due giorni, si era reso protagonista di due episodi caratterizzati dall'utilizzo di armi da fuoco, uno a Licata, l'altro a Gela, nel quale il criminale era rimasto vittima. Le indagini hanno consentito di documentare come, a seguito dello scontro armato tra la famiglia del suo aggressore gelese e il presunto capo dell'organizzazione licatese, poi si è seguita la pace finalizzata alla commercializzazione di stupefacenti. L'indagine ha permesso di scoprire l'attività del gruppo criminale specializzato nel territorio di Licata, con ramificazione a Caltanissette e Catania. Gli indagati, per non farsi scoprire dalle forze dell'ordine, utilizzavano installazioni di numerosi impianti di videosorveglianza, la predisposizione di vedette col compito di controllare gli accessi, l'utilizzo di social network e messaggistica istantanea per comunicare tra loro. L'organizzazione era inoltre in grado di stringere accordi con altri criminali per la gestione dello spaccio di droga radicati nel territorio di Gela e Catania. Durante l'attività investigativa sono stati sequestrati i rilevanti quantità di cocaina. Una mappatura urgente degli oltre 8.000 corsi d'acqua presenti in Sicilia ha un piano straordinario di interventi per la loro manutenzione. È quello che il presidente della regione siciliana Renato Schifani ha chiesto agli uffici dopo l'ennesima alluvione che ha colpito la zona sud-est dell'isola. Il governatore ha riunito attorno a un tavolo a Palazzo d'Orleanse i dirigenti generali dei dipartimenti regionali coinvolti, programmazione, agricoltura, sviluppo rurale e protezione civile, e ha dato una scadenza ben precisa. Dieci giorni, il coordinamento delle attività è stato affidato al segretario generale dell'autorità di Bacino e alla presidenza della regione Leonardo Santoro. Il tutto dopo che il presidente Schifani nei giorni scorsi era stato in sopralluogo soprattutto nel Ragusano, terre e serre danneggiate dall'alluvione. L'obiettivo del presidente Schifani guarda più a lungo periodo una manutenzione complessiva di fiumi e torrenti in tutta l'isola, un progetto al quale stanno già lavorando gli uffici dell'autorità di Bacino, ai quali è affidata l'alta sorveglianza idraulica, in collaborazione col Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Protezione Civile. Archiviata questa fase di emergenza, Schifani però ha chiesto una manutenzione ordinaria annuale dei corsi d'acqua. Tragedia ad Avola. Un operaio di 36 anni, ieri Salvatore Eroe, è morto folgorato da una scarica di cavi dell'alta tensione. L'uomo sarebbe deceduto mentre era impegnato in un cantiere d'ile in Contrada Palma, nella periferia di Avola. Indagini della Polizia di Stato per appurare dettagli, sanitari del 118 e vici del fuoco sono intervenuti nell'immediato per cercare di collaborare col personale nei tentativi di rianimazione. Salvatore Eroe è fratello del campione di box Danilo. Lunghi messaggi di cordogli sono apparsi sui social, sia della Duco Box Avola, sia del calcio di Avola. Per salutare la prematura e in attesa scomparsa dell'uomo, che lascia moglie e figli. La CGL, in collaborazione con Europe for Peace, intraprende iniziative per la pace. Il sindacato, insieme a lavoratrici e lavoratori, è mobilitato per costruirla. La CGL è contro la guerra perché la guerra è sempre orrore, morte, distruzione, perdita dei diritti anche a quelli sindacali. La richiesta da parte del sindacato è di chiedere all'Europa di farsi promotrice di pace. Basta discutere di investimenti in armi. In questi anni è stata cieca di fronte alle guerre che sono scoppiate alle porte del vecchio continente. Palermo, Messina, Catania, Siracusa, ma non solo. Manifestazioni per la pace si terranno venerdì 24 e sabato 25 in molte città della Sicilia. L'impegno della CGL contro la guerra, insieme ad associazioni e forze democratiche e pacifiste, continua. Oggi, mercoledì 22 febbraio, inizia per la Chiesa Cattolica il cammino quaresimale, con il rito delle imposizioni delle sacre ceneri. Giornata di preghiera e di digiuno per ogni cristiano potrà offrire per il dono della pace la conversione dei cuori. Guidati a Siracusa, soprattutto dalla lettera Messaggio per la Quaresima, che l'Arcivescovo Monsignor Francesco Lomando ha intirizzato a tutte le comunità diocesane, chiedendo di pregare con la preghiera la Madonna delle Lacrime, segno della compassione di Dio, da lui composta per il settantesimo anniversario della lacrimazione. Invio il presente messaggio, dice lo stesso Lomanto, per ringraziarvi del dono della vostra presenza e della vostra comunione e invitarvi a intraprendere insieme il cammino quaresimale. Tre i punti fondamentali nella lettera. Credere con Maria all'amore di Dio. Maria ci insegna, dice l'Arcivescovo, che la vita cristiana è credere all'amore di Dio, accoglierlo in noi ed imparare ad amarlo come Egli ci ama. Ancora accogliere con Maria la parola. In questo tempo di Quaresima, dice Lomanto, sull'esempio di Maria riscopriamo sempre più l'ascolto della parola di Dio, che è l'elemento fondamentale di vita spirituale per tutti i cristiani. L'ultimo punto è donare con Maria tutto a Dio. In questo cammino di fede, dice l'Arcivescovo di Siracusa, occorre riscoprire la dimensione mariana della vita cristiana, che è corrispondere alla chiamata di Dio. Si presenta venerdì 24 febbraio alle ore 18.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Grotte ad Agrigento in Piazza Umberto I il libro di Alfonso Locascio, 1943, La Reconquista dell'Europa, dalla conferenza di Casablanca allo sbarco in Sicilia. Previsti gli interventi del sindaco di Grotte e Provvidenza, dei vari assessori, del presidente della Proloco. Modera l'incontro Viviana Caparelli, presidente del gruppo archeologico. Il libro racconta il 1943, che segna la svolta della Seconda Guerra Mondiale. La notte tra il 9 e il 10 luglio non fu solo il momento dello sbarco degli alleati in Sicilia, c'è scritto, ma anche il giorno in cui inizia la reconquista d'Europa, quella lunga rincorsa che si concluderà soltanto a Berlino e riporterà il vecchio continente nell'alveo della libertà e della democrazia. Siracusa non dimentica, 27 febbraio 1943, è il titolo dell'incontro promosso dal Comune, dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, dall'Associazione Culturale Lambadoria e dalla Proloco di Siracusa nell'ottantesimo anniversario del bombardamento inglese su Piazza Santa Lucia, Siracusa, che causò la morte di 56 civili. L'incontro si terrà alla Basilica di Santa Lucia a Sepolcro sabato 25 alle 10.30 alla presenza delle istituzioni militari, civili e religiose. Domenica 26 alle 10.30, sempre alla Basilica, sarà celebrata una santa messa in ricordo dei caduti per il bombardamento. Successivamente da parte dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra sarà deposta una corona dall'oro presso la targa commemorativa. Il 27 febbraio di ogni anno, sottolinea l'assessore alla cultura Fabio Granata, per i siracusani alla giornata del ricordo, istituita con delibera del Consiglio Comunale il 26 aprile del 2010, una drammatica pagina di storia che va ricordata alle nuove generazioni. Il bombardamento anglo-americano della città alla borgata fu spaventosa strage di bambini, cittadini inermi e rappresentò una pagina di barbarie priva di senso. Dopo 80 anni ricordiamo le vittime con due significativi momenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.